Quando conosci ragazze esteticamente molto belle, devi attuare una serie di aggiustamenti al tuo comportamento e modo di fare in modo molto più marcato quanto più la ragazza in questione è bella e sexy In particolare ci sono alcuni errori che non devi assolutamente fare se vuoi avere qualche chance di conquista 1. Non fare complimenti standard Sei bellissima, sei stupenda, sei incantevole Queste sono frasi che lei si sente costantemente dire dalla mattina alla sera da parte di uomini che non le interessano minimamente perché banali e scontati Se tu continuerai a farle apprezzamenti di questo tipo lei nella sua testa finirà per classificarti come un uomo gentile ma uguale agli altri Ossia non interessante 2. Non fare apprezzamenti sull'aspetto fisico Devi stare molto attento perché le donne sono furbe A volte il loro comportamento è paradossale In più di qualche circostanza, ad esempio, si vestono sexy Sì, per ricevere attenzioni Ma tutto ciò è un'esca Vogliono vedere quanti pesci abboccano E tutti quelli che finiscono nella rete Non avranno alcuna chance Le opportunità di conquista Le riserveranno a chi sa vedere il contenuto Oltre al contenitore 3. Non avere fretta Questo l'ho testato proprio pochissime settimane fa Quando io penso una cosa cerco anche la conferma pratica Ho conosciuto una ragazza di 20 anni Molto bella ma anche molto oca Allora ho detto Questa posso anche bruciarmela e usarla come cavia per avere le mie conferme Secondo me era tratta Ma io ci ho provato volutamente la prima sera E lei mi ha rifiutato Quindi la fretta non ti fa creare interesse Neanche se la ragazza piaci Molto meglio iniziare a conoscere la ragazza Creare interesse e poi provarci 4. Non bruciarti la fiducia Occhio a questo elemento Perché se non lo tuteli Rischi di vedere azzerate le tue opportunità di conquista in un istante Non sto scherzando Una ragazza molto bella ha una paura costante Ossia quella di essere tradita Se lei vede che ci provi con lei Poi con un'altra E poi un'altra ancora Finirà per pensare che non sei affidabile E che il tuo interesse sia meramente Quello di avere una donna tra le mani che respiri 5. Non tampinarla ogni giorno Le donne molto belle sono prese di mira da uomini Che sono come le zecche Cioè si attaccano e non le mollano più Postano una foto Loro la commentano Fanno una storia Loro la commentano Respirano Loro commentano Ecco Il sottotesto di tutte queste azioni è uno soltanto Io ti cerco E ho bisogno di te Perché mi piaci troppo Se lei si accorge che sei in questa condizione Allora sei al capolinea Non sceglie chi è già ai suoi piedi Non sceglie chi è già ai suoi piedi Non sceglie chi è già ai suoi piedi Non sceglie chi è già ai suoi piedi